Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale! Oggi vi mostreremo, nel nostro secondo video, altri aspetti del cheerleading. Buon divertimento! Questo è il tutorial per i pom-pom da cheerleader. Allora, i materiali di questo tutorial sono dello scotch, che può essere di tutti i tipi, preferibilmente quello più largo, perché è più comodo. Delle forbici, che ci serviranno per tagliare le striscette, e della carta, che può essere di tutti i tipi. Può essere carta crespa, carta da riciclo, ad esempio i compiti di matematica, della carta da giornale, che anche questa sarebbe meglio da colorare, perché è più carina, oppure delle carte colorate. Per prima cosa, bisogna lasciare una parte del foglio da parte per l'impugnatura. Poi bisogna fare delle striscette, se si vuole si possono prima ricalcare, e poi devono essere tagliate così, da qui fino in fondo, per arrivare a questo. Ok, si è fatta notte, ma sono riuscita a tagliare 5 fogli viola e 5 fogli verdi. Poi bisogna mettere i fogli in ordine verde e viola, e poi bisogna prendere un bel pezzo di scotch, metterlo da una parte del gruppo di fogli e bloccarlo dall'altra parte. Poi sarebbe meglio prendere un altro pezzo di scotch abbastanza grande per bloccare il tutto. Poi bisogna prendere un pezzo di scotch da mettere da parte e arrotolare il gruppo di fogli, e poi sistemarlo un attimo e bloccarlo con il pezzo che avevamo messo da parte. A questo punto io ho preso dell'altro scotch e l'ho messo attorno all'impugnatura per rafforzare un po' il tutto, e anche per renderlo abbastanza carino da vedere. A questo punto bisogna allargare un po' il volume delle striscette in modo tale che i pompon sembrino un po' più grandi. Questa cosa va fatta con un po' di delicatezza per evitare che si strappino i pezzettini. Questo è il risultato, io ho disboscato mezza foresta maxonica usando questi fogli, quindi vi consiglio di utilizzare materiali di riciclo. Adesso vi faremo vedere il trucco perfetto per una cheerleader. Ciao a tutti, ora vi dirò quali sono i materiali per ricreare un perfetto trucco da cheerleader. Iniziamo e prendiamo un pennello, dell'ombretto viola, un rossetto rosso e una matita per occhi nera. Prendiamo il pennello e prendiamo un po' di ombretto viola e lo mettiamo sul nostro occhio. Abbiamo scelto il viola perché è uno dei due colori dell'Energy e dell'Egym Cheer. Facciamo la stessa cosa con l'altro occhio. ok. Poi prendiamo il nostro rossetto rosso e lo mettiamo sulle labbra. Così. poi prendiamo la matita e con la matita facciamo una piccola stellina sotto il nostro occhio. Così. Ed ecco qua il nostro trucco da cheerleader. Ora che avete il trucco e i pomps siete pronti per imparare insieme a noi una nuova coreografia. Ciao a tutti. Ora vi faremo vedere il nuovo dance che abbiamo creato solo per voi. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Allora, con il nostro pompon destro, cioè il pompon viola, dobbiamo allungarlo verso sinistra e alzare la gamba destra contemporaneamente, così, piegando il pompon. E' uguale dall'altra parte. Ecco una parte della nostra coreografia. 1, 2, 3, 4. E adesso vi farò vedere l'ultima parte del dance. Portare il braccio destro sopra la spalla sinistra, poi alla spalla e giù. La stessa cosa va ripetuta con l'altro braccio. Quindi su, spalla e giù. E infine il braccio sinistro va dietro la schiena e il braccio destro davanti. Adesso ve lo faccio vedere più veloce. 5 and 6, 7 and 8, 1. E ora che avete imparato tutto il dance, siete pronti per farlo insieme a noi con la musica. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5 and 6, 7, 8. 1. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 and 8. Salamenti, salamenti, salamenti e salamenti. Ciao a tutti, oggi vedremo alcuni esercizi di preparazione con la ritenza per i giocci. Buon esercizio anche? Mi raccomando, piegate le gambe per fare il salto. Ora vi faccio vedere il pennello raccolto e mi raccomando le gambe su al petto. Ricordatevi, tenete le gambe sempre ben tese e il più alto possibile. Adesso vi farò vedere il touch con l'assistenza. Mi raccomando, alla persona che vi sostiene dovete tenere il gomito perpendicolare al corpo, mentre io li tengo in questa maniera. Adesso passiamo alla parte più difficile, ma in realtà anche quella più divertente, il stunt. In uno stunt i ruoli fondamentali sono tre, la flyer, la base e lo spotter. Per la flyer le cose più importanti sono la tenuta nel corpo, la flessibilità e ultimo, ma non per importanza, il sorriso. Ora vi spiegherò le tre cose più importanti per una base. La prima è la forza, la seconda la tecnica e infine la terza è la sicurezza. Mi raccomando, prendete sempre la flyer che non deve cadere. Adesso vi parlerò del ruolo dello spotter. Le cose importanti sono la voce perché deve tenere i conti, l'altezza perché deve riuscire ad arrivare tranquillamente alle caviglie della flyer e la sicurezza. Ora vi mostreremo quattro group stunt che potete fare a casa in tutta sicurezza. Per i primi due servono solo due persone, per uno ne servono tre e per l'ultimo quattro. Io mi metto in ginocchio con una gamba davanti. Io appoggio una mano sulla sedia e un'altra sulla spalla. Poi metto prima un piede, poi un altro e poi quando mi sento in equilibrio metto le braccia nei lì. Ciao, questa è la nostra presa A2, abbastanza basilare ma anche facile, che appunto ora vi farò vedere. Allora, quando salgo ci dovrebbe essere una sedia se volete provare ad aiutarvi con la sedia e poi man mano staccare le mani e metterle in IV. La flyer deve stare dura per una gamba funglie, mentre la base, mio padre in questo caso, deve stare in ginocchio duro e tenere coscia e caviglia della flyer. Questa è la presa più semplice del serviling. Come vedete ci sono due basi e una flyer. Adesso vi spiegherò come si fa. Allora, per le basi dobbiamo avere una gamba piegata e l'altra pieda. In basso dovere pubblico la gamba piegata è quella interna, quindi in questo modo. Piede contro piede, ginocchio contro ginocchio. A questo punto la flyer si deve tirare su con le mani sulle spalle e un piede alla volta sulle sale. Le basi devono tenere la mano esterna sulla caviglia e la mano interna sulla coscia. In mani sulle linee regolari è la base, eh sì, buonanotte, la flyer, che non caschi giù. La flyer per la discesa deve tenere le braccia come a t, poi si fa fare una specie di pennello. Per la base, la discesa è mano verso il pubblico, sul polso, vicino al polso, mano interna nella parte del braccio vicino alla scella. La flyer, come deve stare? Certissima! Così, e si fa fare una specie di pennello. Ok, ciao! Ciao! Adesso vi farò vedere la posizione del teddy. Dò la mia gamba sinistra alla mia base. E lo spotter mi tiene dai fianchi. 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 7. La flyer può mettere le mani sia sui fianchi ai V oppure a T. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ora che sei diventato anche tu un cheerleader, mandaci il tuo video mostrandoci quello che hai imparato a fare insieme a noi. Mi raccomando, non dimenticarti il trucco e il combo. Ci rivedremo in un prossimo video. Ah, e ricorda di accendere la campanella e iscriverti al nostro canale. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.